Amare significa che non cambieremo né con il tempo, né con le tormente e né con gli inverni. Amare è attribuire all'altro un posto nel nostro cuore affinché ci resti in qualità di partner, padre, madre, fratello, figlio o amico. Amare è sapere che anche nel cuore dell'altro c'è un posto speciale per noi. Amare è sapere che anche nel cuore dell'altro c'è un posto speciale per noi. Gimastraccia al pianoforte è la voce recitante di Nicola Masotti. Uno spettacolo che ci auguriamo abbia tolcato il cuore di tutti coloro che hanno avuto stasera la pazienza di essere qui, di ascoltare, di riflettere sui veri valori dell'esistenza, della vita, nel ricordo della piccola Sara Francesca che portiamo tutti nel nostro cuore. Speriamo anche che la raccolta dei fondi sia andata bene perché la nostra intenzione, come avevamo già comunicato, di acquistare un sollevatore da piscina per disabili da donare alla piscina comunale di Frosinone. Sono certo che la generosità di tutti coloro che stasera hanno riempito il Nestor ci metta nelle condizioni di poter acquistare questa apparecchiatura. Grazie ancora una volta a tutti coloro che hanno, ripeto, avuto la pazienza di essere qui. La tua allegria, il tuo successo e il tuo triunfo non sono miei, però gioisco sinceramente quando ti vedo felice. Non giudico le tue decisioni, mi limito ad appoggiarti, a stimolarti ed aiutarti se me lo chiedi. Grazie.